Con indici di share in costante crescita di mese in mese, a maggio 2015, le emittenti del gruppo ADN Italia, il più grande gruppo radio-televisivo del meridione, raggiungono un record di ascolti assoluto. Podio per Calabria TV, che è il risultato alla televisione più vista in Calabria. Seguita da Telespazio TV, che conquista il secondo posto. Ottimo risultato anche per Canale 16, che si aggiudica alla quarta posizione. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci preferite, che ogni giorno scegliete il meglio della televisione regionale. 153.687 volte grazie! E che i nostri successi siano anche i vostri!